Confcommercio non ci sta ai dubbi sollevati dalla CGL sulla serietà delle intenzioni del gruppo AEO che rileverà il punto vendita billa di Arezzo. È solo l'ultimo capitolo di una vicenda che ha origine nel dicembre 2011, con la notizia della possibilità di chiusura di alcuni punti vendita billa sul territorio nazionale, tra cui anche il supermercato di Via Vettorio Veneto ad Arezzo. Allora i dipendenti si erano rivolti ai sindacati, invocando l'intervento del sindaco Giuseppe Fanfani, ma a gennaio 2013 l'ordine di non effettuare più rifornimenti ha sancito l'effettiva cessazione dell'attività. Le speranze per i 13 dipendenti si sono riaccese solo alcuni giorni fa, con la notizia delle trattative di compravendita dell'attività da parte di un'altra multinazionale, la AEO, interessata ad assumere la proprietà dei locali di Via Vettorio Veneto e ad assorbire gli ex dipendenti di billa, condannati altrimenti alla cassa integrazione o alla mobilità. Interesse su cui la CGL, tramite Marco Guadagni, aveva sollevato alcune perplessità. Se prometto qualcosa, poi non torno indietro, aveva ribattuto Lorenzo Camilletti, presidente di AEO, e a difendere la serietà delle sue intenzioni, oggi si schiera anche Franco Marinoni, presidente di Confcommercio Arezzo. In un momento in cui di imprenditori disposti ad investire e a farsi carico dell'occupazione di decine di persone non se ne vedono poi molti, credo che l'atteggiamento più responsabile sulla vicenda sia quello di mettersi, come abbiamo fatto noi, a totale disposizione dell'azienda, cercando di agevolare in ogni modo una trattativa commerciale che può dare importanti prospettive al territorio, ha commentato Marinoni, che invita la CGL a valutare con disponibilità la serietà del progetto presentato dalla catena Umbra. In questa direzione è già stato convocato per inizio aprile un incontro tra l'azienda e le organizzazioni dei lavoratori.